Giorni di caldo torrido a Torre del Greco. In questa settimana le temperature hanno sfiorato spesso i 40 gradi e l'aria umida non fa che peggiorare la situazione. È quindi più che normale che tanti torresi non perdano occasione per un tuffo in mare. Questa mattina, nonostante siamo ancora ad inizio settimana, in molti hanno approfittato il tratto costiero in zona scala per combattere l'arsura. Qualcuno si sistema come può sugli scogli vicino alle giostrine, altri più organizzati hanno occupato la spiaggetta libera, altri ancora hanno scelto la comodità dei lidi della zona. Per tanti anziani invece basta trascorrere qualche ora all'ombra approfittando dell'aria fresca che arriva dal mare.